Lo scenario digitale di oggi è molto complesso e variegato, nonostante questo molte piccole medie imprese hanno un approccio passivo per quanto riguarda la sicurezza informatica, non hanno ancora una consapevolezza consolidata. Negli ultimi anni c'è stato un grosso livello di informatizzazione e un percorso di digitalizzazione molto veloce e questo ha causato l'aumento del perimetro e la superficie dove ci possono essere criticità e diciamo pericolosità di attacchi. Un modo per difendersi è sicuramente riconoscere gli utenti che hanno accesso alla rete, quindi questo attraverso ad esempio autenticazione a due fattori, riconoscere e identificare i device che si collegano a rete e con l'avento imminente del NIST 2 sicuramente i livelli di sicurezza saranno più restrittivi. Affidarsi ad un vendor come Zyxel dà la possibilità di poter offrire al cliente finale un'unica soluzione per il controllo e la gestione di access point, firewall e switch. Ad oggi siamo arrivati a gestire attraverso il cloud di Nebula oltre 100 dispositivi e da gennaio del 2004 possiamo integrare la gamma con i nuovi firewall USG Flex H di nuova concezione che a bordo possiedono le porte da 2,5 e 10 gigabit proprio per affrontare il mercato che richiede una connettività molto importante. Il concetto di offrire un'unica soluzione è importante soprattutto per poter monitorare quello che è la rete aziendale, quindi per poter attraverso il software cloud di Nebula inviare informazioni ad esempio al IT Manager che ha in tempo reale e in continuazione la conoscenza di quello che accade all'interno della rete. Anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per riconoscere lo stato di salute dei dispositivi hardware a livello di esperienza, quindi man mano che i dispositivi vengono utilizzati sia dagli utenti che dalla console, questo crea sempre la migliore esperienza e il miglior risultato di controllo. La missione di Zykes da sempre è stata quella di sviluppare e fidelizzare i partner. Abbiamo un'esperienza che ormai è ventennale in questo, ma soprattutto nell'ultimo periodo è quello di scegliere i partner che offrono anche i servizi, quindi non solo a livello di vendita di hardware. Questo è il computer gross, ci aiuta tantissimo per il suo portfoglio esteso, ma soprattutto per la collaborazione con gli account sul territorio che diventano fondamentali in una classica triangolazione tra vendor, distributore e cliente finale. Io trovo sempre che l'equilibrio tra queste tre parti sia fondamentale per la crescita del fatturato di conseguenza, ma soprattutto per la conservazione e la fidelizzazione del cliente.